E mentre il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, chiede di blindare immediatamente l'ospedale Mazzini, proprio in queste ore l'asla di Teramo sta attuando una riorganizzazione senza precedenti degli spazi interni del nosocomio teramano. L'obiettivo è quello di creare quasi una cinquantina in più di posti di terapia subintensiva per i contagiati da coronavirus con problemi respiratori non gravi. E dei tre lotti del Mazzini, a diventare la struttura totalmente dedicata all'epidemia da covid-19, è stato scelto proprio il terzo lotto, quello dell'ex sanatorio, dove sono attualmente situati il reparto infettivi, l'ospis e la psichiatria. La psichiatria ha già chiuso da qualche giorno. I pochi pazienti ricoverati, quattro in totale, sono stati trasferiti in altre strutture o sono tornati a casa. In giornata, invece, l'intero hospice sarà trasferito al secondo piano del primo lotto del Mazzini e lì troveranno posto i malati terminali ricoverati in questo reparto. I lavori di sistemazione nell'ex sanatorio sono già iniziati e si concluderanno, ha assicurato il direttore generale dell'asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, nel breve giro di 15 giorni. Intanto, manca solo un test finale, ma si ritiene che siano ormai guariti il papà e i due bambini, i primi ad essere stati ricoverati al Mazzini come positivi al coronavirus. La mamma, invece, è in via di guarigione e le sue condizioni sono buone. Attualmente all'ospedale di Teramo sono sette i positivi al covid-19 e sono ricoverati nel reparto di malattie infettive. Solo una dei contagiati, una donna di 65 anni di Castiglione e Serremondo, è in terapia intensiva. Gli altri sei sono in discrete condizioni. E poi c'è un'ottava persona risultata positiva a Teramo al coronavirus, un funzionario della regione Abruzzo, appena rientrato da una vacanza in Trentino. In questo momento è in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia.